Stavolta però la fonte è molto attendibile perché parliamo di Deadline che di solito non scrive roba a caso. E in un articolo abbastanza lungo ci viene detto che la Marvel avrebbe scelto il regista del prossimo film degli Avengers per gli amici Avengers 5, quello che una volta era chiamato Kang Dynasty ma che ha perso questo sottotitolo. E il regista prescelto, la prima scelta in cima a tutte le altre risponderebbe al nome di Sean Levy. Chi è? È il regista di Deadpool e Wolverine di cui abbiamo appena finito di parlare. Nonché ormai uno storico collaboratore di Ryan Reynolds, visto che l'ha diretto già in altre pellicole come Free Guy o The Adam Project su Netflix. Ed è anche uno dei registi più apprezzati della serie Stranger Things. Sì. Nonché di una notte al museo, insomma una carriera molto lunga, soprattutto nell'ambito commedie per famiglie, però anche con componenti action o risvolti orrorifici come nel caso di Stranger Things. Sembra che i Marvel Studios siano rimasti così soddisfatti dal suo lavoro sul film dedicato al mercenario chiacchierone da offrirgli l'opportunità di dirigere anche Avengers 5. Tant'è vero che gli avrebbero già fatto leggere la sceneggiatura scritta da Michael Waldron, ve lo ricordo. Tuttavia le fonti di Deadline dicono che Livi non ha ancora dato una risposta e che nel frattempo l'MCU starebbe anche contattando altri in caso di mancato successo dell'iniziativa. Questo perché Livi sarebbe già impegnatissimo con l'ultima stagione di Stranger Things ad esempio, poi si parlava di un film di Star Wars da lui diretto, ma questa è un po' una barzelletta, ne hanno annunciati i 22.000, poi se ne faranno uno ci riterremo assolutamente soddisfatti. Però ecco, sarebbe il candidato principale. Angel, che ne pensi? Allora, penso che soprattutto rispetto a D&M Project avevo molto apprezzato uno stile un po' più ricercato che però, lo stesso anche che avevo adottato fra le sue pellicole che preferisco, tipo Real Steel, che mi era abbastanza piaciuto. Però sì, chiaramente con le commedie, ad esempio a me tutta la saga di Notte al Museo non è che faccia impazzire. Per alcuni interpreti, per affezione ovviamente sì, però in generale, ma anche, cos'era? Mi sembra, no, non vorrei dire una stupidaggine, non aveva diretto anche... No, no, la Pantera, mi sta sbagliando, la Pantera Rosa. La Pantera Rosa del 2006. Ah, ok. Ecco, alcune cose che ha diretto non mi sono proprio piaciute, proprio a livello registico, non zero. Ed altre invece sì, ecco, me lo ricordo per uno dei miei film commedia preferiti in assoluto, chiaramente del post anni 2000, che era Gli Stagisti, quello con Owen Wilson e Vince Vogue, che adoro. Quello, anche se è un po' lungo, lo riguardo sempre e volentieri. Siamo on the line, dobbiamo essere on the line, online, no, on the line, quindi ecco. E per il resto mi piace, in generale comunque mi piace, anche a livello seriale ha mostrato più volte i muscoli, non solo in Stranger Things. Io ho abbastanza apprezzato anche quella uscita, mi sembra l'anno scorso, comunque molto recente, tutta la luce che non vediamo, proprio a livello registico, era molto delicata, molto ben confezionata. Quindi sono a bordo, a me non dispiacerebbe vederlo alla direzione. E francamente mi sembra una di quelle persone, lavorativamente parlando, che si spende molto per i progetti in cui viene coinvolto, infatti spesso non è un caso che poi tutte queste grosse produzioni lo vedano anche in veste di produttore, appunto. Ad esempio, anche lì, stando alle voci, mi sembra fosse Tenebra e ossa, dove lui è stato produttore esecutivo per tanti episodi, e sembrerebbe che come produttore esecutivo abbia, insomma, dato anche una serie di indicazioni e aveva, piaccio o meno alla serie, aveva una regia interessante, abbastanza sontuosa, ricercata per essere una produzione seriale. Quindi mi piace, l'idea mi piace, è uno di quelle persone, di quei professionisti in grado comunque di lavorare con cast belli corposi. Spero che non sia vero ciò che è stato detto rispetto a Avengers 5, del numero dei possibili, papabili protagonisti, che mi sembrava una follia totale, quindi mi auguro di no, perché ok, insomma, avere un cast corale bello nutrito, ma, insomma, quando parliamo di decine, 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 poi ripeto... Ricordiamoci sempre, io ho bisogno di fare mente locale, ma se non sbaglio era una cosa che si diceva anche degli ultimi film, c'era qualcuno che si era messo lì a contare, ma intendevano anche i comprimari, quelli che passano e fanno ciao, quindi a conti fatti, una sessantina di personaggi, non mi sembrano poi così improbabili. Sì, fossero considerabili anche i camei nel novelo di quest'ultimi, sì. Ma è ovvio, se c'è qualcuno che fa ciao ed è un supereroe, quello fa proprio questo. Ok, però comunque mi sembrano lo stesso un bel po'. Vabbè, resta il fatto che Sean Levy fra i vari possibili papabili candidati è sicuramente uno che più degli altri ha quella dote particolare, ovvero di gestire i cast abbastanza ampi, quindi mi piace l'idea, ma poi comunque come regista, salvo alcune scivoloni, salvo alcune cose che... Aspetta, cos'era? Anche quello con Robin Williams, no? Che aveva fatto lui, mi sembra... Oggi... No, aspetta, oggi sposi niente sesso, mi sembra, però anche qui non ci mettere la mano sul fuoco. Mi ricordo che quello registi proprio... Sì, c'è anche da dire che era l'inizio della carriera, quindi si occupava veramente di commediole abbastanza. Esatto, esatto. Ci sono state alcune cose buone, altre meno buone, però in generale, ma ripeto, forse per la saga, che lo ha reso più celebre, quella di Una notte al museo, paradossalmente è ciò per cui lo apprezzo di meno, registicamente parlando. Peraltro, sì, non perché siano brutti film o lui non sia stato capace di... No, ma secondo me lo scatto l'ha avuto con Stranger Things, nel senso che poi da lì si è associato a Reynolds, che non l'ha più mollato. Infatti qualcuno potrebbe dire, se lo cercano per Avengers 5 magari c'è Deadpool con un ruolo importante? Non lo so. Eh, non è da escluderlo. Comunque a me farebbe piacere, eh? Se lo scegliessero sarei contento, perché istintivamente mi sta simpatico, ultimamente mi soddisfa sempre parecchio. Vediamo Deadpool e Wolverine, quello è un film che mi spaventa, però non dal punto di vista registico e tecnico, quanto più contenutistico. Ma se dovesse essere riuscito a gestire ottimamente tutto il bailam di roba che sembra essere presente in questa pellicola, allora al contempo potrebbe gestire quei 60 personaggi lì. Perché no? E di sicuro i Marvel Studios, il film, l'hanno già visto e quindi se gli sottopongono il contrattino, devono essere contenti. Se penso alla concorrenza e a James Gunn che ha offerto Brave and the Bold a Muschietti, potrei avere dei tremori, ma cerco di considerare Feige un po' più avveduto. Sicuramente ha più esperienze e merito ed è strano perché in teoria noi dovremmo ipotizzare che un regista della propria materia dovrebbe essere un esperto. Certo, ripensando alle parole di Gunn rispetto ai meriti di Muschietti, qualche perplessità temo, si generi spontaneamente. Non divaghiamo! No, 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 in realtà proprio per tornare a bomba, credo che Feige puntando su Sean desideri, nel caso sia vero, desideri una sorta, anche qui è sempre la logica dell'usato sicuro, in passato hai fatto tanto, hai fatto bene, continuiamo così, senza strafare, senza cercare la regia, quella estremamente autoriale, perché ecco, un'altra cosa buona di questo regista è che comunque è in grado di restituire in ottica cinematografica, magari ok, senza tratti autoriali tipici di qualcuno che dietro la macchina da presa punta dei virtuosismi incredibili e tutto il resto, comunque una sorta di, ecco, di dualità che oggigiorno è un po' più rara, nel senso c'è un po' nei suoi film, appunto se penso anche a Adam Project, quell'effetto un po' patinato, un po' sì, ma al contempo paradossalmente coesistono queste due anime, perché la seconda anima secondo me è anche quella del però riesco a percepire anche il cuore, il fatto che comunque sia ci stia mettendo del suo e quindi buono, buono, l'idea mi piace. Vero, volevo rispondere a un commento che si domandava, beh ma se la Marvel ti propone Avengers 5 perché devi fare l'attendista, rispondi subito sì, e non è detto, dipende da quelle che sono le tue prospettive, magari è già impegnato con altri film, ha già dato l'ok ad altre produzioni che magari gli concedono più libertà creativa, magari si fa due calcoli perché comunque occuparsi della regia di un film innanzitutto così atteso, perché indubbiamente sarebbe un film attesissimo, con un pubblico indisponente alla base, che non sarebbe propenso a perdonare eventuali errori, comunque una produzione ad altissimo budget, con un sacco di attori che vogliono spazio, con un forte controllo della produzione, qualcuno i calcoli se li fa, non è così facile e immediato secondo me. Quindi se dopodomani dovessero dirci che ha rifiutato, anche perché è reduce da Deadpool e Wolverine, potrebbe scegliere di far qualcosa di più piccolo, prima di tornare al blockbusterone roboante, teniamo in conto anche questi elementi. Esatto, non ha bisogno di essere, di fare il mercenare, a differenza di altri personaggi che si occupano principalmente di regia, o di produzione, o di sceneggiatura. Lui ha le mani in pasta un po' in tutto ciò che riguarda, tra l'altro, non solo il mercato cinematografico, ma anche seriale, e credetemi, non è un regista, non è nemmeno un regista a buon mercato, considerando le sue quotazioni, non è uno di quelli del tipo, vabbè ma è mezzo sconosciuto. No, quindi, diciamo che non ha bisogno di girare con il piattino, per chiedere l'elemosina, non che un ingaggio del genere rappresenterebbe questo, assolutamente no, ma intendo dire che comunque di sicuro ha di fronte a sé un bel po', un ampio ventaio d'alternative, quindi vedremo, però non sarebbe male. Sì. Sono d'accordo, io sarei favorevole, è un nome che secondo me barra tutte le caselline, tutte, tutte.